Lo sportello del cittadino è a Grottaglie, in provincia di Taranto, e vuole occuparsi di una bellissima realtà nascente, anzi nata, il Laboratorio Urbano di Grottaglie, ovvero Centro di Ascolto, Assistenza ed Orientamento. Ne parliamo con una componente dell'associazione che si occupa di questa nuova realtà, l'Isola dei Sogni, siamo appunto con Adriana Spagnulo. Di cosa si tratta? È un centro dove accogliamo tutti i giovani, non ha limiti di età, tutte le persone che hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate, di avere un'istruzione anche su tanti sportelli che noi abbiamo a disposizione per tutti i cittadini sia di Grottaglie che anche di fuori. Siamo qui apposta per poter dare una mano ai giovani, ma non solo ai giovani, ma a tutte le persone che hanno bisogno di noi. Diciamo che in un certo qual modo, non vi sostituite alle istituzioni per carità, ma le affiancate, cercate di dare un supporto ed è bello che ci siano tanti comparti, tanti sportelli, come il nostro sportello. Certo, abbiamo tanti tipi di sportello come immigrazione, sportello informatica, sportello di lingue, sportelli di musica, sportelli di tutti i tipi, tutto quello che riusciamo a fare per poter aiutare i problemi di oggi, tutto quello che c'è adesso in attualità e tutte le cose che possiamo fare, noi siamo qui per aiutare tutti. Quindi varie realtà, varie tematiche sociali, l'aiuto alle donne per combattere le discriminazioni razziali, le discriminazioni di genere, le discriminazioni sessuali relativamente all'orientamento sessuale. Certo, certo. Facciamo anche questo, facciamo anche corsi di lingua, corsi di storia, tutti corsi che possono essere in questo momento più adatti per i bisogni delle persone. E' certamente un'occasione, non dico unica, ma comunque preziosa. Molto, molto preziosa perché purtroppo non c'è da tutte le parti questa opportunità. Noi siamo contenti di essere in questo momento i primi, dopo tanti anni, a riaprire questo laboratorio per poter dimostrare... Era un ex carcere, una struttura carceraria. Un po' di tempo è stato chiuso per varie problematiche, ma adesso siamo di nuovo in carreggiata per poter dare questa opportunità a tutti quelli che vogliono venire, senza limite, senza discriminazioni per nessuno. E noi, nelle prossime puntate, ci trasferiremo, per così dire, qui al Laboratorio Urbano di Grottaglie e visiteremo i vari sportelli.